Si chiude il girone per la Canegratecazzo in questa Champions League edizione 2011 al Derby Sports con un'altra vittoria ma manca il sorriso sul volto contrito di Maci, il portierone della Canegratecazzo perché nonostante tutto l'impegno si va in Europa League come al solito migliore in campo per la squadra Maci porta a casa però poco come mai? Buonasera a tutti, vittoria amara, purtroppo per differenza reti usciamo anche a differenza reti pari, gli ha segnato di meno prendiamo sta sconfitta, sta vittoria in malo modo, andiamo a giocarci l'Europa League e a questo punto dobbiamo puntare a vincere l'Europa League la Champions era una bella esperienza, anche cioè con la squadra nuova, i ragazzi nuovi penso non l'abbiano mai fatta la Champions, l'avete già fatta la Champions? Non l'abbiamo mai fatta, mi dispiace per loro perché ci tenevano, hanno rinforzato la squadra ma per questo purtroppo noi non siamo stati all'altezza, ci assumiamo tutte le responsabilità e adesso saremo puniti dal Presidente Canegrate Presidente Perillo che ha invastito effettivamente una campagna faraonica portando praticamente l'asfaltivarrà nella Canegrate Cazzo e generando quindi questi cazzo di asfalti che però non sono riusciti a centrare l'obiettivo qual è stato il vero problema? Allora c'è stato un vero problema c'è stato un po' di sfortuna un po' di prendere le partite un po' sotto gamba e purtroppo e poi non c'è stato il problema perché alla fine abbiamo chiuso con 10 punti cioè siamo stati eliminati con 10 punti abbiamo fatto solo una sconfitta con la grande favorita del torneo Gekase la corazzata Gekase abbiamo perso 2-0 abbiamo tenuto testa abbiamo fatto la nostra bella figura siamo usciti solo per differenza reti è stata secondo me solo sfortuna anche perché quando vai a giocare le partite all'inizio non vai a pensare alla differenza reti vai a pensare alla vittoria e ai punti poi alla fine ti ritrovi a fare 4 conti e vedi che sei in Europa League ci facciamo sta cazzo di Europa League e vediamo cosa succede allora ringraziamo il portierone della cazzo come sei tutti ragazzi? cosa dobbiamo dire? ci vediamo qua sabato a giocare e comunque Moreno mai più sul terzo campo piuttosto vado su Sempiono a giocare grazie ancora ciao a tutti